Questa intervista con un suo ricordo personale, suo e di Giovanni Falcone, quando eravate insieme all'Asinara per lavorare insieme, lontano da rischi di attentati o di altre cose, come furono quelle giornate? Come le ricorda? Si trattò di un periodo che al di là dell'occasione che ci permise di conoscere le bellezze naturali dell'Asinara, sensazioni che chiaramente si conclusero nel giro di pochi giorni, fu un periodo estremamente duro, non tanto forse per me e per Giovanni Falcone, che forse abbiamo avuto la possibilità di lavorare in un ambiente più accogliente, più areato di quello in cui normalmente lavoravamo, ma fu particolarmente duro per le nostre famiglie, che sostanzialmente non avevano possibilità di avere contatti umani, si trattava di un'estate, soprattutto per i ragazzi, per i miei ragazzi, un'estate persa sotto questo profilo. Sette, la vostra amicizia nacque in quella occasione o in quella occasione si rinsaldò? La nostra amicizia risale al periodo in cui eravamo bambini perché siamo nati in due palazzi della vecchia Palermo, nel quartiere Calza, distanti appena 200 o 150 metri. Non abbiamo frequentato la scuola stile perché lui era un anno più grande di me. In quel periodo aveva poco da rinsaldarsi, era stata sempre nel corso degli anni un'amicizia saldissima. in quel periodo, semmai, io avrei occasione di conoscere meglio la moglie di Giovanni e di contrarre io, ma soprattutto mia moglie, una saldissima amicizia con Francesca. E' vero, signor giudice, che doveste pagare anche il conto di quel soggiorno? Sì, alla fine del soggiorno pagammo le spese di soggiorno presso la foresteria di uno degli stabilimenti carcerali della Sinara, nonché le spese di vitto. Non si trattò di somme eccessive. Ma lo trovò giusto? No, non lo trovai giusto. Infatti poi rivelai questa circostanza nel 1988 nel corso di una mia audizione del Consiglio Superiore. Torniamo a Falcone, qual è il ricordo più importante che lei ha di lui? Guardi, io ricordo soprattutto la sera e la notte, in cui abbiamo dovuto procedere con largo anticipo rispetto ai nostri programmi a mandare di cattura conseguente alla dichiarazione di Buscetta. C'era giunta notizia che un settimanale italiano, il lunedì successivo avrebbe fatto uno scoop con queste dichiarazioni, una notizia che fino a quel momento era rimasta sempre segreta, capimmo subito che dovevamo battere sul tempo il giornale e comunque battere sul tempo l'azione di questa notizia. Quindi in quella notte facemmo il lavoro che era programmato per circa i 15 giorni a venire. Ricordo che qualcuno dei colleghi del pubblico cedette addirittura che nel corso della notte non riuscì più a continuare a lavorare. Ricordo che a un certo orario stavo cedendo anch'io perché obiettivamente non ce la facevamo più nel gestire quel mare di carte, di corsa, in modo così affrettato. Ricordo la serenità con cui Giovanni non solo scriveva la sua parte di quel mandato di cattura che poi definito libro da uno degli imputati, perché aveva la consistenza di un libro. Anche il fatto che contemporaneamente trovava la possibilità di dettare a un funzionario di polizia le richieste di estradizione per taluni indagati che in quel momento si trovavano all'estero. In quel momento lo ricordo con enorme piacere perché pensando a quel momento capisco quanta importanza ha avuto nella mia professione e nei miei atteggiamenti morali la vicinanza a Giovanni Falcone. Signor giudice, lei lo ha appena citato, che cosa ha significato per lei ma anche per la giustizia palermitana italiana il pull antimafia? Si trattò di un esperimento non previsto dalla legge, ovviamente non vietato, in ordine al quale non ci fu nessun provvedimento legislativo che lo sostenesse, che ribaltò completamente il modo in cui sino a quel momento si era indagato sui procedimenti mafiosi. Partiva intanto dal presupposto soggettivo, secondo voi coloro i quali si interessavano i processi di mafia che erano estremamente complessi e non dovessero occuparsi d'altro. Inoltre che si lavorasse in equip, fu questo il primo esperimento di questo genere dopo quello del terrorismo e inoltre ancora che i procedimenti di mafia devono essere guardati tutti contestualmente per riuscire a cogliere le connessioni tra l'uno e l'altro. Si tratta di un esperimento che si basava sul principio del coordinamento delle indagini, un esperimento che soltanto recentemente con studi accurati di Giovanni Falcone in proposito è stato riproposto in più ampio raggio con l'istituzione e la direzione distrettuale antimafia e della cosiddetta super procura. Dopo la morte di Falcone come è cambiata la vita di Borsellino? La morte di Falcone ovviamente mi ha lasciato in uno stato di grave situazione psicologica per il dolore provato in quanto non si tratta soltanto di un collega o compagno di lavoro ma si tratta probabilmente del più vecchio dei miei amici che è venuto meno. La mia vita è cambiata anche con riferimento alle unità di protezione che si sono estremamente inasprite nei miei confronti. Ciò ha finito per coinvolgere anche i membri della mia famiglia e i quali evidentemente soffrono di questa mancanza di una normale vita di relazione. Ho temuto nell'immediatezza della morte di Falcone una drastica perdita di entusiasmo nel lavoro che faccio. Fortunatamente se non dico di averlo ritrovato o almeno ritrovato la rabbia per continuarlo a fare. Posso chiedere, ed è l'ultima cosa, se lei si sente un sopravvissuto? Guardi, io ricordo ciò che mi disse Ninnika Sarà allorché ci stavamo recando assieme sul luogo dove era stato ucciso il dottor Montana alla fine del luglio del 1985. Mi disse convinciamoci che siamo dei cadaveri che camminano. L'espressione di Ninnika Sarà io potrei anche ripeterla ora, ma vorrei poterla ripetere in un modo più ottimistico. Io accetto, l'ho sempre accettato, più che il rischio, la condizione, quali sono le conseguenze del lavoro che faccio, del luogo dove lo faccio e vorrei dire anche di come lo faccio. Lo accetto perché ho scelto a un certo punto della mia vita di farlo e potrei dire che sapevo fin dall'inizio che dovevo correre questi pericoli. La sensazione di essere un sopravvissuto e di trovarmi, come viene ritenuto in estremo pericolo, è una sensazione che non si disgiunge dal fatto che io credo ancora profondamente nel lavoro che faccio. So che è necessario che lo faccia, so che è necessario che lo facciano tanti altri assieme a me e so anche che tutti noi abbiamo il dovere morale di continuarlo a fare senza lasciarci condizionare. Dalla sensazione che ho financo, vorrei dire, dalla certezza che tutto questo può costarci caro. Grazie signor Giuseppe. Il 19 luglio del 1992, dopo aver pranzato a Villa Grazia di Carini con la moglie Agnese e i figli Manfredi e Lucia, Paolo Borsellino si reca insieme con la sua scorta in Via D'Amelio, dove vive sua madre e sua sorella Rita. Alle 16.58 una Fiat 126 imbottita di tritolo, parcheggiata sotto l'abitazione della madre, detona il passaggio del giudice, uccidendo, oltre a Paolo Borsellino, anche i cinque agenti di scorta. Emanuela Loi, la prima agente di sesso femminile all'interno di una scorta di sicurezza nell'ambito della polizia. Agostino Catalano, Vincenzo Limuli, Walter Eddy Cosina e Claudio Traina. L'unico sopravvissuto è l'agente Antonino Vullo, scampato perché al momento della defragrazione sta parcheggiando uno dei veicoli della scorta. Il 24 luglio circa 10.000 persone partecipano al funerale privato di Borsellino. I familiari rifiutano il rito di Stato. La moglie Agnese infatti accusa il governo di non aver saputo proteggere il marito e vuole una cerimonia privata senza la presenza di politici. I funerali vengono celebrati nella chiesa di Santa Maria Luisa di Marigliac, disadorna e periferica, dove il giudice era solito sentir messa quando poteva nelle domeniche di festa. L'orazione funebre viene pronunciata da Antonino Caponnetto, il vecchio giudice che aveva diretto l'ufficio di Falcone Borsellino. Caro Paolo, la lotta che hai sostenuto dovrà diventare e diventerà la lotta di ciascuno di noi. Pochi politici. Il presidente Scalfaro, Francesco Cossiga, Gianfranco Fini e Claudio Martelli. Il funerale è commosso e composto, interrotto solo da qualche battimani. Qualche giorno prima, i funerali dei cinque agenti di scorta si erano svolti nella cattedrale di Palermo, ma all'arrivo dei rappresentanti dello Stato, compreso il neopresidente della Repubblica Italiana Oscar Luigi Scalfaro, una folla inferocita sfonda la barriera creata dai 4.000 agenti chiamati per mantenere l'ordine, mentre la gente, strattonando e spingendo, grida, fuori la mafia dallo Stato! Il presidente della Repubblica viene tirato fuori a stento dalla calca. Viene stimpintonato anche il capo della polizia. La salma di Paolo Borsellino riposa nel cimitero di Santa Maria di Gesù, a Palermo. Pochi giorni prima di essere ucciso, durante un incontro organizzato dalla rivista Micromega, così come in un'intervista televisiva con Lamberto Sposini, Paolo Borsellino aveva parlato della sua condizione di condannato a morte. Sapeva di essere nel mirino di Cosa Nostra e sapeva che difficilmente la mafia si lascia scappare le sue vittime designate. Antonino Caponnetto, che subito dopo la strage aveva detto sconfortato «tutto è finito», intervistato anni dopo da Gianni Minà, ricordò che Paolo aveva chiesto alla Questura, già venti giorni prima dell'attentato, di disporre la rimozione dei veicoli nella zona attenzante l'abitazione della madre. Ma la domanda era rimasta in evasa. Ancora oggi aspetto di sapere chi fosse il funzionario responsabile della sicurezza di Paolo, se si sia proceduto disciplinarmente nei suoi confronti e con quali conseguenze. Riguardo l'ultima intervista concessa dal magistrato italiano nel numero dell'Espresso dell'8 aprile 1994, fu pubblicata una versione più estesa dell'intervista. L'intervista e i tagli relativi alla sua versione televisiva furono citati anche dal Tribunale di Palermo nella sentenza di condanna di Gaetano Cinà e di Marcello Dell'Utri. Un riferimento a quelle indagini si rinviene nell'intervista rilasciata il 21 maggio 1992 dal dottor Paolo Borsellino ai giornalisti Fabrizio Calvi e Jean-Pierre Moscardot. In dibattimento, il pubblico ministero ha prodotto la cassetta contenente la registrazione originale di quell'intervista, che nelle precedenti versioni aveva subito invece evidenti manipolazioni ed era stata trasmessa a diversi anni di distanza dal momento in cui era stata resa, malgrado l'indubbio rilievo di un simile documento. Paolo Guzzanti aveva sostenuto che Grazie a tutti i nostri spettatori